Stiamo facendo dei clip settimanali dove ogni giorno daremo la testimonianza di qualcosa che si sta muovendo all'interno del nostro lavoro. L'agitato dolore mi sembra qualcosa che corrisponde un po' alla vita di ciascuno di noi, è in agguato dentro la vita di tutti noi, ci fa agire in un modo sconsiderato e folle e quindi eccomi alle prese in maniera piuttosto semplice, devo dire. È un racconto della storia di un ragazzo devastato da una terribile condizione di lutto e da una incredibile vitalità. Amleto nella mia vita l'ho fatto tre volte, questa è la terza, devo dire che quelle due volte che ho incontrato Amleto la mia vita è profondamente cambiata. Quando al Teatro Stabile di Torino abbiamo ragionato cosa vuoi fare? Dentro di me è uscita fuori la parola Amleto. Grazie. 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 Grazie.